Giuseppe Testa, allenatore del quartiere Punterotto, una sconfitta di misura, c'è un rammarico? Un po' di rammarico c'è anche perché la sconfitta è arrivata all'ultimo, però ci siamo divertiti e per noi l'importante è questo, giocare e divertirci. Ci rifaremo delle prossime, siamo dei ossidori e la prossima partita cercheremo di vincere. Grazie.